Nell'ambito delle manifestazioni estive previsto nel ricco cartellone dell'estate empedoclina ha preso il via quella denominata Bentornato Emigrato, organizzato da Rino Ciofolo nella qualità di direttore artistico e Nuccia Grassonelli, presidente dell'associazione Madame Gras. L'avvio è avvenuto con l'incontro tra i cittadini e i migranti, l'esibizione del gruppo folcloristico Fiori del Mandorlo che con allegria hanno animato e colorato il centro storico empedoclino, la via Roma e le zone limitrofe. L'iniziativa è dedicata a tutti coloro che hanno dovuto lasciare la propria terra alla ricerca di nuove opportunità all'estero, diverse le altre iniziative previste nel programma fino a quella conclusiva che si terrà domenica 13 agosto alle ore 21 in piazza Kennedy. Con la celebrazione finale di Bentornato Emigrato che prevede lo spettacolo Io e l'Emigrante a cura del professore Marchica, l'ospite d'eccezione Antonio Di Stefano, ritorno al passato, quindi una performance live con Rino Ciofolo che si esibirà nelle varie hit degli anni 60 e 70, quindi la premiazione degli aderenti al progetto dei più vecchi e più lontani emigrati, dei più piccoli e più lontani residenti all'estero. Ed è così arrivati ragazzi! Ed è così arrivati ragazzi! Ed è così arrivati ragazzi!